Il progetto Biodiversity nasce all'Orto Bottice Il progetto botanico dell'Università di Palermo ha l'obiettivo di studiare gli effetti dell'urbanizzazione sulla vifauna urbana. La nostra intenzione è di espandere i nostri siti di ricerca in altri parchi e in altre ville cittadine e da ciò il nome del progetto Biodiversity diventa Biodiversity. Noi studiamo la vifauna urbana ma contrariamente a quanto si pensa nelle nostre città non vivono soltanto gabbiani e piccioni ma convivono insieme a noi tantissime altre specie di uccelli. Il nostro obiettivo è quello di conoscere la composizione della vifauna che vive i parchi e i giardini urbani. E attraverso la misurazione e l'inanellamento degli individui conoscere lo stato di salute di queste popolazioni abbiamo inoltre installato cassette nido, mangiatoie, registratori audio e fototrappole in modo da studiare le personalità e il comportamento di queste specie nelle nostre città. I risultati ottenuti dopo aver analizzato tutti i dati raccolti durante questa attività di ricerca sono serviti per elaborare delle strategie di conservazione delle comunità di uccelli che vivono all'interno di queste importanti aree. Ovviamente queste strategie saranno poi condivise e trasmesse agli enti gestori delle altre aree verdi affinché loro possano progettare in maniera mirata attività di tutela delle comunità faunistiche. E favorendo così un effetto benefico sia per la biodiversità sia per l'intero ecosistema delle aree verdi urbane. La sfida più grande è quella di trovare delle soluzioni per la tutela della biodiversità in sinergia con le attività sociali ed economiche di una città. La protezione della nostra biodiversità è fondamentale per il nostro futuro. La protezione della nostra biodiversità è fondamentale per il nostro territorio. La protezione della nostra biodiversità è fondamentale per il nostro territorio.